Cari Mark e Elon, se questo combattimento si farà, se davvero avete scelto un'azione così primitiva per risolvere le vostre divergenze, quale luogo migliore di una grotta, scrive in un post ironico Domenico Barba, sindaco di Pertosa, a Elon Musk e Mark Zuckerberg. Da qualche giorno infatti girano voci su un presunto incontro di MMA tra i due miliardari. Tutto sarebbe partito da un tweet di Musk, sono pronto a un incontro di lotta in gabbia, se anche lui lo è. Zuckerberg risponde postando in una storia di Instagram lo screenshot del tweet di Elon Musk «Mandami la posizione» e tra le possibili location era stato tirato in ballo il Colosseo, ma il Ministero della Cultura ha subito smentito la notizia. Ha approfittato di questa situazione il primo cittadino Barba che ironicamente ha proposto come location alternativa le grotte di Pertosa Oletta. Al centro della terra scrive «In totale privacy» e con una temperatura ideale costante di 16 gradi. «Vi aspettiamo a patto che sia uno scontro leale e sportivo, non una manifestazione di violenza». Lancio io una sfida a voi, scommettiamo che alla vista di uno spettacolo della natura tanto bello quanto unico preferirete posare i guantoni, navigare il fiume, attraversare la grotta e farvi ammansire da cotanta meraviglia. Poi sarò ben lieto di ospitarvi e offrirvi le nostre prelibatezze, prime fra tutte il carciofo bianco di Pertosa Presidio Slow Food. Si sa, conclude il primo cittadino che è la tavola, può mettere tutti d'accordo e farvi dimenticare vecchi rancori.